Impennata di contagi nelle Marche. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 61, il numero più alto dal 23 aprile scorso, quando ne vennero riscontrati 76. I casi di positività sono emersi dagli oltre 1000 tamponi eseguiti nel percorso Nuove Diagnosi. La metà dei nuovi casi sono in provincia di Fermo, con 30 contagi. Seguono Pesero Urbino con 17, Macerata con 7, 3 ad Ascoli Piceno e 1 in provincia di Ancona. A questi se ne aggiungono 3 di persone provenienti da fuori regione. I contagi, fa sapere il Gores, sono riferiti a rientri dall'estero e da altre regioni italiane, da contatti domestici, screening su operatori sanitari e sintomatici. I contagi in provincia di Pesero Urbino riguardano 6 rientri dall'estero, tutti asintomatici e di giovanità. Poi 6 persone del percorso malati che hanno sintomi lievi ed hanno un'età media di 40 anni, un caso emerso dal percorso preoperatorio e un altro soggetto sottoposto al tampone su prescrizione del medico di base. Infine se ne riscontrano altri 3 venuti a contatto con un positivo fuori regione. I dipartimenti di prevenzione sono impegnati in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus. Anche oggi al Codma di Rosciano sono stati eseguiti circa 200 tamponi, mentre domani il drive point verrà attivato ad Urbino. Intanto nell'ultima giornata si registra un calo di ricoverati, ad oggi i degenti sono 8 e tutti nei reparti non intensivi, mentre aumentano ancora sia i positivi in isolamento domiciliare sia le persone in quarantena per contatti con contagiati. Questi ultimi sono 55 in più rispetto a ieri per un totale di 1.959, di cui 76 operatori sanitari.